Questo è il secondo round, l'ha fatto la giratina, l'ha detto è andato per finire di mangiare, guarda la mia fame, l'ha lasciata mezza scatoletta, guarda, ora va per il bosco, attraverso il bosco ritorna la vetone, ma sta alle regine mi hanno detto, ma guarda lì, sempre in agitazione, qua, vieni, vieni, su!